Buongiorno da Obiettivo News. Oggi 20 febbraio e Santa Giacinta Marto. Oggi è anche la giornata mondiale della giustizia sociale e che è stata creata per promuovere la giustizia sociale, un concetto fondamentale per l'equità e l'inclusione in tutto il mondo. Questa giornata speciale è stata istituita dalle Nazioni Unite nel 2007 per sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi della povertà, dell'occupazione limitosa, dell'uguaglianza di genere e di diritti umani. La data del 20 febbraio è stata scelta per evidenziare l'importanza di costruire società giuste e sostenibili. Oggi è anche la giornata nazionale delle patate al forno e la giornata internazionale del muffin e della torta di ciliegie. Tre nati oggi annoveriamo Kurt Cobain 1967, Rihanna 1988 e Cindy Crawford 1966. Tra i scomparsi ricordiamo Renato Dulbecco 2012.